Ciao, sono Nico Capogna e sono l'amministratore e il co-founder del progetto PinBike, il sistema che permette di premiare, soprattutto economicamente, gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, la propria bicicletta, negli spostamenti urbani, quindi nelle tratti di routine, nel caso a scuola e nel caso a lavoro. Questo perché noi di PinBike crediamo che l'utilizzo della bicicletta dipenda soprattutto da una questione culturale e di abitudine, e PinBike va esattamente ad incidere sulle routine di spostamento quotidiane di ogni utente, abituandolo e facendogli comprendere le potenzialità dell'utilizzo di questo mezzo, soprattutto in ambito urbano. Le statistiche lo dicono chiaro, ogni due italiani c'è almeno una bicicletta parcheggiata e impolverata in garage. Noi vogliamo far riscoprire ai nostri utenti soprattutto l'utilizzo di quel mezzo. Alla base è una tecnologia brevettata, certificante antifrode, che ci rende unici sul mercato e si basa su questo device. Quindi non è solo un'app, perché se stiamo rilasciando incentivi economici è importante certificare le modalità con cui l'utente riceve quell'incentivo. Ci rivolgiamo ad amministrazioni comunali, imprese ed istituti scolastici, con particolare attenzione anche all'incentivazione del commercio locale, dato che opzionalmente il buono economico allargito dal comune può essere speso esclusivamente nelle attività commerciali della propria città. In questi primi due anni ne abbiamo fatta di strada ed è grazie alla nostra tecnologia che ci rende unici che abbiamo stretto collaborazioni con importanti amministrazioni comunali. Il progetto infatti ad oggi è attivo nei comuni di Bari, Bergamo, Pescara e nel raggruppamento di 11 comuni a dovesti di Torino. Non possiamo che esserne orgogliosi.